L'apertura della procedura di mobilità per i lavoratori della 3G è inaccettabile nella forma e nei contenuti. E quanto sostiene la Fistelcisla l'indomani dell'incontro a Roma tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali? La situazione è degenerata alla scadenza dei contratti di solidarietà al 31 luglio con il previsto licenziamento di ben 101 lavoratori. Per il sindacato ci sarebbe la possibilità di adottare soluzioni diverse e meno traumatiche. La Fistel rivolge pertanto un invito all'azienda a presentare un piano credibile per la salvaguardia occupazionale e annuncia che assumerà una posizione dura coinvolgendo sia il governo che la politica locale per tutelare l'occupazione in territori disagiati come quello abruzzese. Si sta occupando della questione anche il sindaco Peppino Ranalli che lo scorso martedì dagli schermi della nostra emittente ha annunciato che sarà urgente un incontro con la proprietà. Cercherò di capire quelli che sono i problemi e di attivarmi affinché assolutamente questi posti di lavoro possano essere mantenuti e numerose famiglie di cui l'unico lavoro che sia possano essere mantenuti. L'impegno del primo cittadino scaturisce da un ordine del giorno presentato nel Consiglio Comunale di martedì scorso dal consigliere di minoranza Gianfranco Di Piero che da mandato al sindaco e alla giunta di promuovere d'intesa con le rappresentanze istituzionali del territorio una linea di dialogo e confronto con la proprietà dell'azienda. È necessario, dichiara Di Piero, esperire ogni utile tentativo affinché la drastica riduzione dei livelli occupazionali nello stabilimento sul monese della 3G possa essere scongiurata. Il sindaco Ranalli rende noto di volersi fare carico in prima persona della questione. Il Consiglio Comunale mi ha dato un mandato ben preciso, mi adopererò affinché questo problema possa essere affrontato e risolto. Peppino Ranalli ammette però le notevoli difficoltà che ci sono in quanto la notizia del mancato rinnovo dei contratti di solidarietà si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno perché in precedenza non si era avuta nessuna comunicazione. Siccome noi assolutamente non possiamo permetterci la perdita di nessun posto di lavoro dobbiamo attivarci tutti per cercare di capire come risolvere questa problematica e quindi come garantire questi posti di lavoro a queste persone.